Entra oggi a Ragusa la salva di Damiano Puchino, il 19enne che da 15 anni lottava contro la fibrosi cistica in attesa di un trapianto di polmoni all'ISMET di Palermo. Purtroppo Damiano è morto ieri pomeriggio, domani funerali. Ha truffato numerosi anziani ma la polizia di stato del commissariato di Modica lo ha arrestato. Si tratta del 58enne Emanuele Abbeduto, dipendente comunale già arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. E' stata un'anziana a denunciare i fatti. Hanno trascorso la notte da parenti o in un B&B messo a disposizione dal comune di Ragusa gli inquilini dell'edificio di proprietà dello IACP in via Solunto, che ieri è stato sgomberato per il rischio crollo. Al momento l'immobile è inagibile. Lezione di legalità questa mattina all'istituto comprensivo Fontana Rossa di Catania da parte dell'esercito. Per l'occasione alza bandiera a collino nazionale musicato dalla banda della brigata meccanizzata a Osta. Buon pomeriggio, ben trovati a una nuova edizione di MTG. Lo avete sentito dai titoli. La città di Ragusa si stringe attorno alla famiglia di Damiano Pluchino, il 19enne che si trovava ricoverato all'ISMET di Palermo in attesa di un trapianto di polmoni che potesse salvargli la vita. Damiano si è spento ieri pomeriggio dopo 15 anni di lotta contro la fibrosi cistica. Domani mattina i funerali in cattedrale alla quale parteciperà anche la sua classe. Numerosi i messaggi di cordoglio anche da parte del sindaco di Ragusa. Una sconfitta. E questo è il commento di Maurizio Pluchino, il padre di Damiano, il 19enne ragusano che si è spento ieri dopo 15 anni di lotta contro la fibrosi cistica. Una sconfitta per noi ma anche per i medici che hanno creduto fino alla fine che potessimo salvarlo, ci ha detto al telefono stamattina. Damiano si trovava all'ISMET di Palermo da tre settimane in coma farmacologico attaccato a un polmone artificiale che però ieri si è inceppato e alle 16 il suo cuore ha smesso di battere. Da quattro anni Damiano era in attesa di un trapianto di polmoni che potessi salvargli la vita. Prima di Palermo il 19enne era ricoverato a Messina quando invece tre settimane fa, a seguito di un'erogia polmoni, è stato trasferito in elisoccorso all'ISMET. Numerosi gli appelli dai genitori di Damiano sui social, dei familiari, dei compagni di scuola, di amici e conoscenti per sensibilizzare sulla donazione degli organi. Anche la nostra redazione si era associata agli appelli trasmettendo il messaggio di un amico di famiglia. Dopo il trasferimento a Palermo, restando in contatto con la sua famiglia in attesa di aggiornamenti. Ieri invece la triste notizia della sua scomparsa. Numerosi gli messaggi di cordoglio sui social da parte del primo cittadino Peppe Cassì, degli amici di Damiano, ma anche di chi, pur conoscendolo appena, aveva a cuore la sua causa. Perché non è facile accettare la morte, soprattutto quando porta via una giovane vita. Oggi la salma rientra a Raguse e domani i funerali che saranno celebrati nella cattedrale di San Giovanni Battista alle 11.30. Un corteo partirà da Piazza Libertà alle 11.00. Alle celebrazioni prenderanno parte, secondo disposizione del dirigente scolastico, tutte le classi dell'Istituto Fabio Besta di Ragusa, insieme al personale e ai docenti, che saranno celebrati da padre Ottone. Gli insegnanti rendono noto inoltre che è stata disposta una raccolta fondi destinata alla famiglia di Damiano per coprire le spese. Già questa mattina, dalle 11 alle 11.30, si è svolto un momento di preghiera nel cortile antistante alla palestra, nel corso del quale ci sono stati anche degli interventi dei compagni di classe di Damiano, che lascerà nel cuore di tutti un vuoto incolmabile e un ricordo indelebile. Truffava gli anziani che frequentavano una congretazione a Modica da parte di un dipendente comunale di Modica. Il 58enne Emanuele Avveduto, già arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla truffe ricettazione, la polizia di Stato del commisteriato di Modica lo ha smascherato grazie anche alla denuncia di un'anziana. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa stamattina. Viviana Sammito. Fermo in attesa della busta contenente la pensione di anziani truffati, ma oltre alle vittime è arrivata la polizia di Modica, lunedì nel primo pomeriggio invia resistenza partigiana a Modica, che lo ha arrestato in flagranza di reato per truffa. Emanuele Avveduto, 58 anni, dipendente comunale a Modica, già indagato nel 2011 per l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa e la ricettazione all'usura al falso, è accusato di avere truffato per tre anni diversi anziani modicani che fanno parte di una congregazione, sottraendo loro tramite artifici e raggiri ingenti somme di denaro per un ammontare quantificato in circa 50.000 euro. Cinque le vittime, una coppia di anziani e tre donne, tutti sulla settantina che oltre a consegnare pensione e tredicesime sganciavano somme di denaro per il pagamento dei tributi, che dall'indagato non venivano corrisposti agli enti competenti, tant'è che gli anziani ricevevano anche le cartelle esattoriali. Siamo in un contesto in cui, soprattutto la coppia, si era fatta ammaliare, abbindolare da quest'uomo definito il benefattore, che prometteva in cambio della pensione un consistente aumento, facendosi consegnare l'intero importo mensile IMS, millantando la puntuale consegna della somma all'interrogatore per ottenere altri tipi di prestazioni pensionistiche e molto più vantaggiose con l'aggiunta di arretrati. Gli anziani hanno denunciato di aver avuto difficoltà anche per la sopravvivenza. La strategia Trufaldini aveva acquisito maggiore forza perché il 58enne ha messo telefonicamente in contatto gli anziani con presunti avvocati per assumere maggiore credibilità, millantatori anche loro. La preoccupazione del modus operandi era il passaparola perché i settantenni sono stati adescati in una comunità dove loro, totalmente plagiati, consigliavano agli altri della congregazione di affidare tutti i loro soldi a 58enne. Un raggiro smascherato grazie alla denuncia di una donna di 70 anni amica dell'altra coppia truffata che ha sporto denuncia anche su consiglio di una conoscente appartenente al corpo di polizia. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 1.300 euro. La pensione è la tredicesima dei conugi restituita agli anziani tra le lacrime di commozione della coppia. Emanuele Avveduta è stato posto agli arresti domiciliari. L'azione che si è svolta fra sabato e lunedì scorso e che ha portato all'arresto dell'uomo ha consentito di recuperare attraverso la perquisizione in un caso e in flagranza di reato nell'altro le somme di tre vittime. Esistono formule magiche per moltiplicare i soldi. L'uomo ha agito anche verificando e riscontrato che questi anziani non avessero congiunti prossimi in questo territorio proprio per evitare di trovare ostacoli alla propria azione proditoria. E ancora la cronaca. I carabinieri della stazione di Ragusa Ibla hanno arrestato un ragusano per furto di energia elettrica. Si tratta di un cinquantenne colto in fragranza. I carabinieri insieme ai tecnici dell'Enel hanno scoperto non solo che l'allaccio abusivo serviva all'abitazione ma che il cinquantenne aveva addirittura staccato il contatore dell'energia elettrica tagliandolo dalla sua sede. I tecnici hanno riscontrato un consumo fraudolento di circa 3500 kilowatt per un danno che si traduce in 1200 euro. L'uomo si trova adesso ai domiciliari. E torniamo adesso in via Solunto 12 a Ragusa a indirizzo della palazzina dello IACP sgomberata ieri il rischio crollo per motivi di precauzione. Le 16-17 circa famiglie hanno trascorso la notte da parenti o anche in B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Noi siamo andati sul posto ai microfoni di MTG. L'architetto Marcello Di Martino è anche uno degli inquilini che ha raccontato la vicenda. Un cortile semivuoto, l'edificio delimitato da un nastro di sicurezza per impedirne l'accesso e un'auto della Polizia Municipale rimasta a presidio tutta la notte per evitare atti predatori agli appartamenti rimasti incustoditi. E' questo lo scenario che si è presentato alle nostre telecamere questa mattina nel complesso delle palazzine dello IACP di via Solunto 12 dove un intero condominio a rischio crollo ieri pomeriggio è stato sgomberato per precauzione Dopo che uno degli inquilini aveva lanciato l'allarme ai vigili del fuoco dopo aver sentito degli scricchioli alla struttura e visto cedere lievemente il pavimento del proprio appartamento situato al primo piano così come ci ha raccontato a telecamere spente uno degli altri inquilini che questa mattina si trovava sul posto in attesa del proprio turno per accedere singolarmente con l'asilio dei volontari della protezione civile per prendere altri effetti personali. Sono anni che segnala lo stato della struttura ci ha raccontato senza ottenere nessuna risposta. sottolineando anche come è presente un cupolo di macerie ancora ben visibile destinato a dei lavori per la costruzione di una scivola per disabili mai costruita. Ai microfoni di MTG il racconto di un'altra inquilina Quindi lei signora si trovava qua ieri quando vi hanno fatto evacuare? Sì, a casa, a casa, quinto piano, quinto piano. Avete avuto tanta paura? A che muore? Facciamo usare scala a scala Tra l'altro i pompieri meschini aiutano che ne resano, fu pazzesco, fu pazzesco. Vi hanno detto, quanto sarete? Ma non lo so, quanto sistemano il palazzo? E' chiaro, non è che potremmo stare così. Abbiamo provato a contattare i vertici dell'OIACP per un commento sull'argomento ma non siamo riusciti a ottenere nessuna dichiarazione. Sono 17 le famiglie che hanno trascorso la notte in sistemazioni provvisorie fornite anche con il supporto dell'amministrazione comunale. Il sindaco Peppe Cassì, infatti, ieri con una nota aveva mostrato già vicinanza alle famiglie. Decine le persone che hanno dovuto abbandonare gli appartamenti a seguito dello sgombero è stato stabilito che la struttura resterà sotto osservazione. Adeguate verifiche strutturali stabiliranno eventuali interventi necessari di ripristino delle condizioni di stabilità, come ha spiegato l'architetto Marcello Di Martino. Ci sono dei tecnici incaricati sia dai proprietari del condominio che stanno facendo tutte le verifiche che occorrono. La prima cosa da fare è cercare la documentazione esistente sull'edificio dopodiché si procederà a effettuare in base alla documentazione trovata anche delle verifiche e poi ipotizzare anche il tipo di intervento. Naturalmente si farà tutto cercando di accelerare i tempi senza naturalmente compromettere i tempi che ci vogliono per le analisi e le verifiche del caso. Ci spostiamo adesso al Vittoria, il Comune con le tariffe più alte dell'Imu e della Tasi conseguenza di un disastro di gestione, di un uscempio corruttivo a cui va posto rimedio. Parola dei commissari prefettizi che amministrano l'ente e che annunciano anche misure radicali. Questo e altri programmi illustrati nella conferenza stampa di questa mattina. Per noi, Carmela Minardo. Un Comune sull'orlo del dissesto non solo economico-finanziario ma civile e morale alla luce di un'illegalità diffusa dal mercato ortofrutticolo all'evasione tributaria al servizio idrico. Per i commissari prefettizi che amministrano il Comune di Vittoria c'è stato uno uscempio prodotto da un sistema corruttivo. E ora bisogna correre ai ripari. Come? La ricetta è articolata. L'aiuto del Governo servirà ad evitare il dissesto finanziario mentre i commissari annunciano misure radicali a tutto campo. Una commissione al di sopra di ogni sospetto, esterna al Comune e indipendente per assegnare tutti i 74 box dentro il mercato dove sarà insediata una nuova direzione con un settore separato per le filiere. Un appalto ad un'agenzia esterna per la riscossione dei tributi, ricorso ai privati anche per riscuotere il canone idrico e un appello ai commercianti. Il Comune non ha soldi per far avvertire l'atmosfera del Natale il prefetto dispensa e chiede il loro aiuto. E oggi in una conferenza con i giornalisti è stata anche annunciata la pubblicazione del nuovo regolamento del mercato ortofrutticolo sul sito dell'ente di Palazzo Iacono. Cambiano tante cose, soprattutto per quanto riguarda i controlli per l'accesso al mercato delle persone e delle merci che sono prodotti di grandissima qualità per garantire le persone per bene e oneste le imprese che rispettano le regole perché di tutto questo non c'era traccia seria nel precedente regolamento e non c'era traccia neanche pragmatica per quanto riguarda i controlli. Visto la precedente esperienza negativa ben due commissioni non sono riusciti ad assegnare sei box per diversi anni i box, gli spazi vanno messi tutti a concorso voglio ringraziare il presidente di ANAC il magistrato dottor Raffaele Cantone perché ci ha dato veramente una collaborazione straordinaria nonostante noi non fossimo obbligati a chiedere questo protocollo di vigilanza collaborativa con ANAC l'abbiamo voluto fare per evitare le infiltrazioni criminali le azioni corruttive ma tutto questo, ricordatevi, va a vantaggio a favore delle imprese che rispettano le regole dei cittadini per bene che operano all'interno del mercato ortofrutticolo perché il rispetto della legge e delle regole l'applicazione della legge favorisce lo sviluppo economico e sociale. Il distesso del comune di Catania al centro di un tavolo di crisi che si terrà in prefettura la prossima settimana giovedì 13 dicembre a volere l'incontro i sindacati che si attendono più dialogo con l'amministrazione comunale Sara Donzuso Facendo seguito all'appello lanciato da CGL Cisle Wille UGL il prefetto di Catania ha deciso di convocare per giovedì 13 dicembre il tavolo di crisi per un approfondito monitoraggio delle conseguenze del dissesso finanziario del comune di Catania sul tessuto socio-economico della città insieme ai sindacati anche le organizzazioni imprenditoriali delle imprese cooperativistiche Proprio le organizzazioni sindacali apprezzano la sensibilità istituzionale del prefetto che, come dichiarano appunto i segretari generali offre così ai rappresentanti ai lavoratori e del mondo produttivo anche l'opportunità di un confronto con i vertici e l'amministrazione cittadina da tempo inutilmente sollecitato alle parti sociali allo stesso sindaco e l'assessore al bilancio dicono ancora i rappresentanti CGL Cisle Wille UGL L'incontro inoltre servirà a rilanciare il nostro appello dicono a Stato e Regione perché i rappresentanti di governo mantengono le promesse sostenendo il risanamento del comune e scoggiuranno i temuti e disastrosi effetti prodotti dal dissesto In attesa della riunione in prefettura CGL Cisle Wille UGL ricordano che è già stato proclamato lo stato di agitazione a sostegno di quello già indetto alle sigle sindacali e alla funzione pubblica locale e che sono stati convocati per lunedì prossimo nella sede della CGL gli attivi unitari per valutare la situazione senza escludere la possibilità di sciopero generale cittadino Ed è arrivato ieri in tarda serata il nulla osta della regione siciliana per consentire ai comuni di trattare i rifiuti dopo il conferimento nella discarica di cava dei modicani individuata l'OICOS ma si attendeva il benestare della regione da stamattina i comuni hanno potuto regolarmente svuotare i cassonetti Il servizio Ieri in tarda serata il caso rifiuti in provincia è stato risolto questa mattina tutti gli autocompattatori hanno conferito i rifiuti nella discarica di cava dei modicani a Ragusa svuotando dunque i cassonetti che fino a ieri traboccavano di materiale il commissario straordinario della SRR Nicola Russo il cui incarico è stato prorogato fino a marzo 2019 ha chiesto la disponibilità all'OICOS la ditta che deve trattare e smaltire i rifiuti che arrivano in discarica l'impresa ha dato l'ok ma previa autorizzazione della regione siciliana che ieri in tarda serata ha rilasciato il nulla osta ma perché le città ieri si sono trovate in ondate di rifiuti? Torniamo al primo dicembre quando il comune di Ragusa ha comunicato che per ragioni burocratiche la discarica di cava dei modicani è stata chiusa riferendo che la riapertura è prevista per martedì 4 dicembre ieri è stata riaperta ma nell'ordinanza del commissario del libero consorzio comunale di Ragusa Salvatore Piazza è stata data l'autorizzazione a conferire i rifiuti in discarica fino al 31 marzo ma con un solo problema non era stata individuata la ditta che avrebbe dovuto trattare i rifiuti una volta conferiti in discarica per tale ragione gli autocompattatori in massa dei vari comuni che sono andati a cava dei modicani sono stati bloccati e fatti entrare a rilento lasciando il resto dei rifiuti nei cassonetti stamattina il commissario straordinario Nicola Russo ha inviato un'ordinanza ai 12 comuni Iblei fornendo le indicazioni su come garantire a tutti gli enti l'equa ripartizione per l'accettazione dei rifiuti nel TMB nella discarica e il commissario Russo nella missiva di stamattina ha anche tirato le orecchie a quei comuni che ancora non conferiscono l'organico nell'impianto di compostaggio a Ragusa e che quindi continuano a conferire a Gran Michele dove già l'impianto è saturo e con un aggravio dei costi invitandoli a segnalare le motivazioni dovute al mancato conferimento nel compostaggio di Ragusa Gli unici comuni che smaltiscono l'organico sono 7 su 12 Ragusa, Scicli, Vittoria, Comiso Monterosualmo, Vittoria e Giaratana per una media giornaliera inferiore a 10 tonnellate contro le oltre 50 tonnellate previste dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto Il Senaco di Scicli Enzo Giannone ha firmato un'ordinanza in cui si disciplina per la prima volta il settore delle sale giochi dei centri scommesse dei luoghi sensibili per l'utilizzo degli apparecchi da gioco il documento stabilisce che da oggi in poi la nascita di questi centri è vietata entro 500 metri da luoghi sensibili come scuole luoghi di culto centri di aggregazione sociale centri giovanili e altre strutture culturali Inoltre i centri scommesse già esistenti potranno essere aperti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 tutti i giorni compresi i festivi Invece Barta, Bacche e Rincevitorie Lotto potranno rendere fruibili gli apparecchi dalle 10 alle 13 dalle 15 alle 20 tutti i giorni compresi i festivi Si chiude così una vicenda ha dichiarato il primo cittadino che ha suscitato preoccupazione nella comunità rispetto a cui le forze dell'ordine e prefettura di Ragusa hanno dato un segnale immediato tangibile e forte Ieri invece Santa Barbara anche la guardia costiera della Capitineria di Porto di Pozzallo ha celebrato la sua patrona una messa è stata ufficiata nella chiesa madre della Madonna del Rosario a Pozzallo C'erano tutte le autorità militari e civili ieri pomeriggio a celebrare Santa Barbara padrona della Marina Militare nella chiesa madre Madonna del Rosario a Pozzallo una santa messa ufficiata dal vicario generale della diocesi di Noto Monsignore Angelo Giordanella che nel corso della sua omelia si è soffermato sulla figura di Santa Barbara che rappresenta la serenità del sacrificio di fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo e fu eletta patrona di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa a seguito del breve pontificio di Pio XII il 4 dicembre del 1951 Santa Barbara fu proclamata celeste patrona e ogni 4 dicembre gli uomini della Marina Militare e quanti operano per essa nel ritrovarsi con le comuni origini e valori festeggiano solennemente e degnamente la loro Santa Patrona ieri pomeriggio come detto dunque la Santa Messa ha presenza tra gli altri degli uomini della Capitaneria di Porto di Pozzallo guidata dal comandante capitano di Fregata Pierluigi Milella per noi è un evento molto importante perché è un'occasione per incontrarci aggregarci e celebrare insomma quella che per noi è una festa nazionale molto particolarmente sentita è un evento a noi particolarmente caro proprio perché in un'occasione delle celebrazioni di Santa Barbara tutto il personale si riunisce e si sviluppa quello spirito di costruttiva direi amicizia che penso che sia un elemento essenziale in un'organizzazione come la nostra tre anni fa Monsignor Corrado Lorefice veniva consacrato vescovo della diocesi di Palermo per l'imposizione delle mani del cardinale Paolo Romeo che oggi sarà presente insieme ai vescovi con consacranti Monsignor Antonio Stagliano e Monsignor Paolo De Nicolò oggi pomeriggio alle 17 infatti nella chiesa cattedrale di Palermo la comunità diocesiana insieme a Monsignor Lorefice ringrazierà il Signore con una solenne celebrazione eucaristica il vicario generale Monsignor Giuseppe Oliveri il presbiterio e tutto il popolo di Dio della diocesi di Palermo si stringe intorno a Monsignor Corrado Lorefice per esprimere i migliori auguri in occasione del terzo anniversario della sua ordinazione episcopale dell'inizio del ministero pastorale in diocesi gli auguri a Monsignor Lorefice anche da parte del gruppo editoriale video mediterraneo andiamo a Catania dove si è tenuta la quarta conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di polizia è stato il vice capo della polizia il prefetto Nicolò Marcello D'Angelo a presiedere questa mattina la quarta conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di polizia lo scopo è stato quello di aggiornare e trasmettere agli operatori gli strumenti le linee guida e le migliori pratiche della cooperazione internazionale proprio nel settore della polizia in un territorio come quello siciliano che sviluppa in seno alla regione all'estero ramificazioni di organizzazioni criminali tristemente note il network delle forze e l'ordine e la collaborazione operativa tra strutture del dipartimento e la pubblica sicurezza divengono dunque strumenti imprescindibili di fatto gli arresti e i latitanti effettuati in paesi esteri e le numerose operazioni transnazionali di polizia che hanno smantellato diverse articolazioni delle cosche siciliane hanno evidenziato l'affidabilità del sistema Italia si sono fatti grandi passi avanti ed è il futuro chiaramente della lotta alla criminalità poiché voi come ben sapete non esistono più frontiere per un criminale ormai è tutto trasnazionale quindi in particolare noi il dipartimento della pubblica sicurezza molto lavorato sotto questo aspetto Catania è importante ha una storia si affaccia in una parte chiaramente di Mediterraneo importante quindi non poteva sicuramente mancare l'appuntamento noi noi siamo sempre attenti a segnali che ci possono inquietare in qualche modo ma io direi che i cittadini italiani in generale sotto il profilo della sicurezza contro infiltrazioni terroristiche possono stare tranquilli legalità nelle scuole è un progetto tra la brigata Osta e l'istituto Fontana Rossa la scuola Fontana Rossa di Catania ormai da tempo impegnata in progetti didattici volte a sensibilizzare i propri studenti sullo senso civico e sul valore della patria come sistema paese ha promosso oggi un incontro dibattito con i fanti della caserma Sommaruga incentrato sui valori della pace della legalità e della solidarietà Il progetto curato dalla professoressa Giovanna Michale con gli interventi e il maggiore dell'esercito Giuseppe Garagliano è stato rivolto agli studenti di scuola media della scuola primaria partendo dall'esperienza di vita vissuta dei ragazzi con le testimonianze dei soldati uomini e donne che si sono recati in giro per il mondo per portare pace benessere e prosperità a popoli vittime di tristi eventi del recente passato Cerchiamo di portare avanti un discorso diciamo proprio per implementare il concetto di legalità di conoscenza di tutte quelle che sono le uniformi quindi i rappresentanti delle forze dell'ordine diciamo di tutti i militari sono in qualche modo passati dalla nostra scuola ma in maniera così imponente quindi io sono molto grata per aver avuto questa possibilità La legalità arriva nelle scuole la si insegna ai giovani che risposta avete dagli studenti? Il feedback è assolutamente positivo hanno capito che nella vita il sacrificio rimanere nel legale è sicuramente la scelta più importante perché come dicono loro almeno mi hanno appena riferito la libertà di uno finendo con l'inizio di quella di un'altra è anche sicuramente definita da quello che è il principio della legalità sinceramente i ragazzini di oggi sono molto svegli e c'è da imparare anche da loro L'ex sindaco di Lico di Aubea con la passione per la scrittura Nunzio Lirosi oggi presenterà gli ultimi suoi libri a vi racconto Sara Donzuso vi aspetta alle 19.05 su Video Mediterraneo canali 11 511 in diretta streaming sul nostro sito in diretta sulla nostra pagina ufficiale Facebook è tutto per questa edizione grazie per averci seguito buon pomeriggio Grazie a tutti